provo oggi ad affrontare il primo canto del purgatorio che direi che è abbastanza importante ma non è mai stato commentato dunque cominciamo percorrer miglior acque alza le vele o mai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé mar si crudele vi ricordate non abbiamo però affrontato l'ultimo canto dell'inferno laddove Virgilio e Dante incontrano Lucifero poi Dante fa una capriola al centro della terra e risale da questo budello fino alla superficie accompagnato sempre da Virgilio e a questo punto si apre il cielo siamo vicino all'alba c'è una nuova speranza dopo l'esperienza infernale dopo la conoscenza del peccato vi ricordate che Dante si era reso conto di questa sua condizione all'inizio del poema della prima cantica laddove aveva incontrato i suoi vizi e poi accompagnato da Virgilio che lo viene a soccorrere la ragione affronta e diventa consapevole del peccato che non è semplicemente una realtà così aleatoria ma è una condizione stabile laddove l'uomo sceglie deliberatamente il male e respinge il bene per esserne consapevole inizia questo viaggio e in questo viaggio Dante riconosce una umanità peccatrice e ritrova anche se stesso dove più dove meno quindi passata questa esperienza ecco finalmente un po' di respiro e infatti c'è scritto percorrer miglior acque alza le vele ormai la navicella del mio ingegno come al solito io con il lungo indico l'enjambement con il tr indico il troncamento qui ad esempio miglior è un troncamento l'enjambement alza le vele ormai la navicella del mio ingegno vedete che la proposizione continua nel verso successivo e poi l'anastrofe laddove è necessaria una costruzione infatti qui abbiamo la navicella del mio ingegno alza le vele ormai percorrere acque percorrere acque migliori ora tutte le volte che ci sarà un enjambement a meno che siano dei momenti particolarmente significativi un enjambement, un troncamento, un anastrofe io non le richiamo sono scritte qui vicino qui abbiamo una metafora perché la navicella del mio ingegno alza le vele quindi la navicella del mio ingegno che cosa può intendere si può intendere il mio spirito alza le vele riprende nuovamente una strada aperta ricomincia di nuovo a veleggiare quindi l'ingegno viene in una similitudine senza come paragonato ad una navicella una navicella che riprende il mare aperto dopo essere passato attraverso queste gore attraverso questi stretti infernali acque migliori perché ci troviamo in un'altra cantica la cantica della purificazione e la cantica del purgatorio notate questo correre correre normalmente è considerato un verbo intransitivo qui invece correre regge un complemento oggetto per correre acque migliori questa navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé un mare così crudele il mare è l'inferno quindi di nuovo una metafora si crudele viene definito il mare non tanto il mare crudele quanto la condizione dei dannati crudele quindi si potrebbe vedere in questa un'altra figura retorica come viene definita il pallage o mai si noti che è una sincope è una contrazione di oggi mai e come al solito Dante ci presenta il suo programma e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno io ora mi propongo di cantare siamo in poesia il secondo regno che è il purgatorio dove l'uomo si purifica e diventa degno di salire al cielo quindi qui abbiamo anche un iperbato perché c'è proprio un cambiamento di posizione anche nei verbi cielo un troncamento cielo evidentemente anche questa è una metafora perché cielo qui rappresenta il paradiso ma qui la morta poesì resurga o sante muse poiché vostro sono e qui calliopea alquanto surga seguitando il mio canto con quel suono di cui le picche misere sentiro lo colpo tal che disperà perdono definisce la sua poesia dove abbiamo una forma sincopata invece di poesia abbiamo poesì questa poesia è definita morta quindi un'altra ripallagia la poesia non può essere morta se mai è morto il contenuto l'argomento che viene cantato anche qui è da vedere perché a volte di pallage è al limite con la metonimia resurga resurga è un arcaismo e da resurgo latino latinismo resurgo resurges resurrex e finalmente c'è un invito alle sante muse che poiché vostro sono queste muse voi sapete sono le dè dell'arte c'è una perfetta diciamo sintesi vogliamo chiamarlo sincretismo ma direi di no perché non riguarda il pensiero ma semplicemente l'aspetto letterario le immagini letterarie le metafore queste muse sono delle divinità pagane ma sapete che tutto il paganesimo tutta la tradizione antica viene accolta dal medioevo in una successione equilibrata e non in una prospettiva di frattura quindi c'è un'invocazione alle muse perché io sono vostro nel senso che io ho donato la mia vita alla poesia e in modo particolare c'è l'invocazione a Calliope che è la musa che protegge che ispira la poesia epica di cui vediamo come quella commedia definita così proprio dallo stesso Dante che dovrebbe essere commedia però in certi momenti si eleva a epicità quindi e qui Calliopea quanto surga ritorna di nuovo il latinismo di prima le surga surga le surga a rima e quindi Calliopea mi dia il modo di poter cantare tutto quello che adesso nei giorni successivi nelle ore successive potrò conoscere seguitando il mio canto proteggendo il mio canto le mie rime con quel suono con quella forza di cui le picche misere sentirono col potarche di sperare perdono qui ci si rifà alle figlie di Pierio re di Tessalia che avevano sfidato le muse furono battute non accettarono la sconfitta per questo furono per punizione trasformate in gazze qui ha anche un valore allegorico questo esempio perché nel purgatorio per accederci per riconoscere il proprio peccato per purificarsi dalle proprie sozzure è necessario un passo iniziale che è fondamentale l'umiltà quindi riconoscere le proprie miserie le picche le figlie di Pierio non riconobbero la propria miseria e la propria la propria i propri limiti di cui ebbero la punizione notate che per ragioni metriche abbiamo delle forme sincopate sentirono diventa sentiro lo colpo tal che disperarono diventa disperar perdono poi ci sono altri troncamenti disperarono non c'è soltanto la sincope dal disperarono diventa disperaro ma dal disperaro diventa disperar quindi una parola che da piana diventa tronca dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo pur infino al primo giro agli occhi miei ricominciò di letto tosto chi uscì fuor dall'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto qui c'è una lunga perifrasi invece di dire semplicemente colore azzurro dice un colore dolce dulcis ne abbiamo parlato più di una volta è un attributo che non è semplicemente legato al gusto al senso del gusto ma è una dolcezza quella utilizzata da Dante che entra nel cuore e trasfigura colore di uno zaffiro orientale una pietra preziosa di color celeste no? quindi ciò che riesce a cogliere all'uscita dell'inferno la prima cosa che balza la sua attenzione dopo le tenebre infernali è questo colore celeste che si accoglieva nel sereno aspetto del mezzo il mezzo che cos'è? è un colore quindi che si vedeva che si raccoglieva nell'aria mezzo è un termine scientifico perché l'aria era considerata un mezzo attraverso cui avvenivano determinati fenomeni si scoprì poi che il mezzo pensate per un momento Aristotele diceva che se la freccia scagliata dall'arco può arrivare al suo bersaglio è perché era condotta dall'aria ecco perché l'aria veniva definita mezzo noi sappiamo che è proprio tutto il contrario se mai l'aria frena lo slancio di un proiettile quindi tutto sereno colore celeste puro infino al primo giro qui i critici si sono sbizzarriti il primo giro cosa si intende il primo giro poteva essere l'orizzonte il primo giro poteva essere la sfera della luna il primo giro poteva essere invece considerato all'opposto cioè il primo mobile l'ultimo quindi cielo a noi poco interessa mezzo diventa una metonimia perché il mezzo con parola mezzo abbiamo detto scientifico si considera l'effetto al posto della causa agli occhi miei ricomincia di letto quindi soltanto vedere il colore del cielo essere uscito dalla nebbia infernale tosto che uscì appena uscì fuori dall'aura morta di nuovo questo predicare un attributo dell'aria quando morti morta non era l'aura morti spiritualmente erano le anime infernali e quindi unipallage che m'avea contristati gli occhi e il petto m'avea invece di aveva di nuovamente la caduta della labiale che mi aveva in qualche modo rattristato il cuore gli occhi e il petto sono delle metafore oppure delle metonimie io sono rattristato in tutta la persona non ho rattristato soltanto gli occhi e ho solamente il petto dunque permettetemi una cosa solamente perché altrimenti qui mi segna rosso anche là dove non vorrebbe essere segnato ecco così abbiamo tolto tutti questi segni che non hanno ragione d'esserci allora siamo qui lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto rider l'Oriente velando i pesci che erano in sua scorta il bel pianeta che conforta da mare quindi qui abbiamo un anastrofe un troncamento e una perifrasi invece di dire bel pianeta che da mar conforta bastava che dicesse venere faceva ridere tutto l'Oriente quindi ridere è una metafora vuol dire illuminava tutto l'Oriente e la sua luce nascondeva la costellazione dei pesci che erano in scorta sua che erano a lui vicino quando la luce è particolarmente forte non riusciamo a vedere più le altre luci così come avviene durante il giorno c'è il sole non è che le stelle non ci siano la luce del sole è così forte essendo il sole più vicino a noi che le stelle per cui le luci delle stelle più lontane appaiono smorte o completamente invisibili io mi volsi a man destra attenzione se qualcuno è interessato in modo particolare a se è interessato a la posizione esce da questo budello dove oltretutto scorre un fiumiciatolo e si gira a destra e puosi mente all'altro polo e mi rivolsi al polo perché il purgatorio si trova nella astrologia di Dante nel nell'emisfero australe quindi nell'emisfero australe Dante vede il polo antartico quindi puosi mente mi rivolsi al polo verso il polo antartico e vedi quattro stelle non viste mai forca la prima gente allora queste quattro stelle sono l'allegoria delle quattro virtù cardinali prudenza giustizia fortezza temperanza sarebbe bello riflettere su queste quattro virtù cardinali che guardate arrivano da molto lontano sono virtù già proposte dall'etica nicomachea di aristotele sono poi virtù così forti e così presenti incarnate nel cuore dell'uomo onesto non del corrotto evidentemente che sono state poi ereditate confermate nei testi sacri e riconfermate dalla chiesa cattolica come virtù cardinali cioè virtù importanti che ci pongono in una giusta prospettiva nei confronti dei nostri simili poi ci sono le virtù teologali fede speranza e carità che ci pongono invece in una particolare prospettiva nei confronti di dio quindi vedi queste stelle che non furono mai viste tranne che da parte della prima gente chi sia questa prima gente viene ripreso il mito dell'età dell'oro oppure viene ripreso il passo biblico del paradiso terrestre in ogni caso cosa si intende dire con queste parole che la gente gli uomini purtroppo hanno perso di vista questi riferimenti fondamentali prudenza pensateci un momento che cosa vuol dire la prudenza oggi c'è prudenza quando si procede a sempre in ogni caso a condannare gli altri a puntare il dito a fare delle cose strane strane l'insulto le volgarità giustizia la giustizia quella che viene in qualche modo proclamata nel nostro arlo di tribunale la giustizia è uguale per tutti la legge è uguale per tutti ma sappiamo che non è così il senso della giustizia si arrabbiamo noi nel profondo ma è una giustizia che va al di là degli interessi personali la fortezza la capacità di affrontare cioè le avversità della vita e la temperanza il fatto cioè di non cadere mai come diceva Aristotele negli estremi ma trovare il giusto mezzo come equilibrio di vita è tutto un progetto è tutto un programma quindi è abbastanza limitante imparare queste questi vocaboli a memoria senza invece scrutarne il loro senso profondo che ci arriva sia dalla sapienza umana sia dalla sapienza divina goder pareva il ciel di lor fiammelle o sottentrional vedo ossito poi che privato sé di mirar quelle vedete il cielo pareva godere abbiamo un'anastrofe il cielo stesso pareva essere in uno stato di gioia perenne per la presenza di questi quattro punti di riferimento notate che specialmente nella vita quotidiana nel secolo ventesimo e ventunesimo noi abbiamo perso i punti cardinali non per altro c'è una crisi esistenziale ormai generalizzata anche perché ci sono delle persone che vivono esclusivamente per abbattere questi punti cardinali li devono dissacrare in tutti i modi e si vedono poi gli effetti quindi il cielo stesso pareva essere felice di quella presenza e poi una frase esclamativa o sito settentrionale vedovo è la nostra terra non è l'emisfero australe ma il boreale dove gli uomini vivono come sei povero questa povertà viene espressa da questo attributo vedovo che è una metafora vedovo perché ti è mancata la parte migliore sei rimasto solo perché sei privato di mirare di godere di quelle di vivere di quelle virtù che invece erano le virtù iniziali originali poi ci sono dei troncamenti degli anastrofi privato se anastrofe sei privato come io da lo sguardo fui partito un poco me volgendo all'altro polo la onda e il carro già era sparito vidi presso di me un veglio solo degno di tanta reverenza in vista che più non dea padre alcun figliuolo vi ricordate che all'inizio dell'inferno nel terzo canto c'era un vecchio vi ricordate qui l'ho riportato un vecchio bianco per antico pelo gridando guai a voi animi di nuovo anche qui troviamo un vecchio come io da loro sguardo fui partito anche questo è una metafora lo sguardo non parte è la persona che parte però viene utilizzato questo verbo da Dante per dire a un certo punto volgo lo sguardo non più verso il polo antartico verso il polo sud ma mi sono rivolto al nostro polo dove non si vedeva più l'orsa maggiore proprio perché io mi trovavo nell'altro polo quindi quelle luci quelle stelle che si vedono nell'emisfero l'oreale e quindi anche le costellazioni non erano più visibili o erano visibili in parte o si pensi solo al follevole di Ulisse e li si vedono all'orizzonte quasi a confondersi con le acque ecco io non potevo più vedere almeno dice Dante l'orsa maggiore allora mi ero volto al polo sud adesso mi volgo a sinistra e vedi presso di me un veglio veglio è un arcaismo poetico che ci viene dal francesismo voi sapete del plurilinguismo dantesco che accoglie non solamente i termini latini ma non solo i termini toscani ma prende a mani ampie e generose anche da un lessico che si era imposto allora e che era appunto la poesia la poesia che arrivava dalla france vecchio vuol dire vecchio vecchio vuol dire vecchio ricordatevi che e qui i critici vedono una un elevarsi a nuove sfere visto che nell'inferno si parla di vecchio nel purgatorio si parla di veglio è già un termine che ha un valore stilistico più elevato per arrivare poi in riferimento a San Bernardo al termine sene da senex senis questo è tipicamente latino no? quasi come se anche attraverso i vocaboli si potesse cogliere questo salire a nuove sfere a nuove realtà a nuove condizioni dello spirito quindi ci sono tante ragioni allora abbiamo visto c'era ragione linguistica c'era ragione poetica c'è ci sono le scelte c'è tutto un discorso di allegoria che è l'allegoria che vedremo adesso con questo nuovo personaggio sintetizzata cioè sostanzialmente tutta l'allegoria della divina viene sintetizzata in questo incontro con vedremo Catone Luticense non Catone Incensore mi raccomando allora fresso di me vedi un veglio solo degno di tanta reverenza in vista degno solo alla vista di tanta reverenza che un figlio non ne può dare di più a un padre dee al posto di deve abbiamo di nuovo la caduta della labiale e poi c'è un anastrofe che un alcun figliuolo non deve di più al padre lunga la barba e di pel bianco mista portava a suoi capelli similiante de quai cadeva il petto doppia lista qui qui abbiamo un iperbato e unito dentro l'iperbato c'è anche un'anastrofe portava una barba lunga questa è l'anastrofe tutto insieme iperbato scusatemi faccio sempre un accento sbagliato iperbato non iperbato iperbato portava la barba lunga e mista di pelo bianco similiante ai suoi capelli di nuovo un'altra anastrofe dei quali doppia lista cadeva al petto anche qui guai ha un valore c'era la caduta della L sono formule poetiche con dei precisi secondo me scopi metrici qui ho ricordato la strofa infernale anche per vedere un po' la differenza no? gli raggi delle quattro luci sante fregiavansi la sua faccia di lume chi il vedea come il sol fosse davante gli raggi delle quattro luci sante quindi delle quattro virtù cardigali qui allegoricamente rappresentate da quelle quattro stelle fregiavano un troncamento colpivano la la sua faccia di luce lumen luminis tipicamente un vocabolo un lessico latino e quindi la sua faccia era illuminato da queste quattro luci che io lo vedeva come fosse come si fosse il sole davanti a me notate di nuovo questo vedea dove cade la labiale no? notate tutte queste kill no? sarebbe che io lo ci sono sono tutti troncamenti e hanno evidentemente una funzione metrica per rientrare con la metrica nell'endecassillabo poi come il sole dunque che io lo vedeva come fosse come se il sole fosse davanti anche qui abbiamo delle anastrofi bisogna fare una costruzione e subito ecco le parole di questo vecchio dunque facciamo una premessa così poi riusciamo anche a capire meglio Eccatone e Luticense siamo al tempo del primo triunvirato siamo al tempo in cui Cesare occupa assieme a Pompeo e Crasso ma poi Cesare rimane sostanzialmente da solo occupa il governo e ponendo fine a quella democrazia a cui tanti ci tenevano democrazia per modo di dire però sappiamo che la formula romana era una formula abbastanza complessa Cicerone ci diceva che era una monarchia perché c'erano due consoli era un'oligarchia perché c'era il senato ed era una democrazia perché c'erano i comizi farle cadere però tutto il potere nelle mani di una sola persona per qualcuno era cosa abominevole e assolutamente improponibile Catone Luticense pensate alla grandezza di certi personaggi anche personaggi che oggi vorremmo definire laici non regge a questa proposta o forse a questa imposizione e si toglie la vita va incontro al suicidio questo è il problema forse più grosso ma secondo me non è più di tanto perché se non ci fermiamo esclusivamente all'apparenza alle parole ma vediamo la sostanza comprendiamo anche l'intento di Dante vi ricordate che Dante aveva posto nella selva dell'inferno i suicidi come vai Catone Luticense invece di essere posto là in quella selva è addirittura posto a guardia del purgatorio viene addirittura promosso promosso ad una condizione particolare di vita ma per una semplice ragione sapete perché quel suicidio non era espresso non era espressione di una disperazione non era l'espressione che poteva essere di una reazione di una ma era naturalmente negli occhi agli occhi di Dante perché come si fa a un certo punto giudicare le intenzioni di un essere che si uccide di una persona che si uccide l'ha voluto vedere Dante come espressione estrema della libertà l'uomo che vuole essere libero e non vuole essere costretto da un governo da delle leggi da una situazione che gli torni un peculiare suo diritto che è quello della libertà quel suo diritto peculiare che è stato rispettato nella prospettiva cristiana anche da Dio ed è continuamente rispettato è un principio intrinseco alla natura umana e come mai proprio qui Catone Luticense perché nel purgatorio attraverso la purificazione da una condizione originaria di vizio e di peccato ci si vuole liberare dalle passioni i peggiori tiranni le peggiori dittature sono non sono realtà esterne che ci arrivano dal di fuori sono le nostre passioni sono i nostri vizi quindi questo desiderio e questa aspirazione di libertà che pervade tutto il purgatorio è introdotto da questo gesto estremo di Catone Luticense che con il suicidio vuole imporre vuole riproporre quella libertà che dalle istituzioni civili è evidente che questa è una allegoria figurale dalle istituzioni civili di allora gli veniva tolta detto questo diciamo capire meglio questo personaggio chi siete voi che contro al cieco fiume fuggito avete la prigione eterna di Sel muovendo quelle oneste piume chi siete voi che avete fuggito la prigione eterna ossia anche questa potrebbe essere una metafora sta per inferno avete fuggito poi c'è un'anastrofe andando contro il fiume cieco quel fiume che non si vede e che passa attraverso quel budello percorso al contrario da Dante e Virgilio dal centro della terra alla base del purgatorio disse Catone muovendo quelle oneste piume qui c'è una metafora perché la barba viene paragonata ad una piuma ben differente la barba che si trovava invece attorno a quegli occhi a quelle rote di fiamme di caronte oneste di nuovo unipalle perché vedete un po' voi o una metonimia nel senso che la barba bianca non è onesta onesto è chi la porta chi va guidati o che vi fu lucerna uscendo fuori della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna chi ha potuto guidare voi chi ha fatto da voi luce per poter uscire fuori dalla notte profonda dell'inferno che rende sempre oscura quella valle infernale sono le leggi da visso così rotte o è mutato in c'è il nuovo consiglio che da nati venite alle mie grotte sono domande retoriche sono forse cambiate rotte la rumpo rumpis rumpi 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 tipicamente latino sono state infrante le leggi infernali o consiglium consiglium latino da consulere deliberato c'è stata una nuova delibera in cielo perché voi possiate dannati pur essendo dannati venire alle mie grotte grotte deriva dal latino cripte che vuol dire alla mia dimora grotta sarebbe una cosa più nascosta però teniamola pure lo duca mio allor mi diedi piglio e con parole e con mani e con cenni reverenti mi fei le gambe il ciglio di nuovo il duca predicato di virgilio non chiama virgilio chiama duca perché in quelle condizioni virgilio per antonomasia è la guida allora mi diedi piglio e una sincope mi prese e e poi abbiamo un polisindeto e e e e con le parole e con le mani e con i cenni mi fece reverenti le gambe il ciglio fece una sincope reverenti è un complemento predicativo dell'oggetto mi fece piegare le gambe e lo sguardo ma gambe e ciglio sono delle sineddo che non è piegare la gamba inginocchiarsi e abbassare il viso e abbassare gli occhi vuole dire begaltro vuol dire ricopriti di un nuovo spirito non sei più davanti ad un dannato sei davanti a uno che ti sta proponendo la libertà poscia rispose lui parla Virgilio poscia deriva da postia latino io risposi a lui da me non venni donna scese dal ciel per li cui prieghi nella mia compagnia costui son venni Virgilio si deve giustificare non venni per una mia decisione scese dal cielo una donna e proprio per le sue preghiere sovvenni costui qui c'è un iperbato no? della mia compagnia costui sovvenni sovvenni costui della mia compagnia aiutai costui con la mia compagnia sovvenni subvenire da venire in aiuto attenzione che qui inizia quella sintesi di tutta l'allegoria della commedia innanzitutto da me non venni ma scese donna del cielo cos'è questa donna del cielo è la grazia divina gratuita che viene rappresentata da Beatrice e io chi sono ho aiutato lui innanzitutto per quel che competeva a me io sono per esempio la ragione la ragione la retta ragione non la ragione utilizzata a fini malvagi e sono i fini fraudolenti vi ricordate quelli puniti nella parte più profonda dell'inferno io sono venuto in aiuto a Dante la ragione vedete che è sintetizzata tutta l'allegoria ma da che tuo voler che più si spieghi di nostra condizione come è vera essa non può il mio che a te si nieghi in teoria Virgilio avrebbe potuto rispondere come aveva risposto a Caronte voler sì così dove si vuole ciò che si vuole più non dimandare ma non ha più davanti un demoniaccio ha davanti Catone Ludicense che diventa un simbolo di libertà e quindi è giusto dare una spiegazione offrire una spiegazione che poi è la spiegazione che dà ai lettori ma io penso che Dante prima di dare ai lettori la spiegazione è la da se stesso ma da che ma poiché è tuo volere tuo desiderio che si spieghi di più che io chiarisca maggiormente questa situazione si spieghi più di questa nostra condizione attenzione che qui c'è un voler sottinteso il mio voler cioè quello che desidero io non può essere che si nieghi a te vedete che è tutta una serie di anastrofe di perbati cioè io non posso volere qualche cosa differente da quello che desideri tu Puote da Potest no? Potest anche qui con delle sincope per ragioni metriche questi rivolgendosi riferendosi a Dante questi non vide mai l'ultima sera ma per la sua follia le fu si presso che molto poco tempo avvolge era qui sera è inteso in duplice senso sera intesa come morte come morte fisica come ultimo giorno della vita ma sera anche come peccato questo Dante non ha mai visto l'ultimo giorno della sua vita né mai è stato condannato definitivamente all'inferno è una perifrasi con doppio senso ma per la sua follia la follia del peccato fu così vicino a questa condizione che non ci voleva molto tempo che sarebbe finito molto male vedete qui c'è di nuovo l'allegoria di tutta la commedia allora Dante rappresenta tutta l'umanità l'umanità che rischia continuamente di peccare arriva una grazia gratuita la prima grazia è quella della natura umana e la grazia che ci era proposta dai filosofi ci possiamo arrivare anche noi con la nostra ragione a cogliere almeno a linea generale ciò che bene ciò che male ma poi per elevarsi ad uno stadio superiore definitivo eccellente è con la necessità della grazia ecco allora la presenza di questa di questo viaggio che ci permette di essere più consapevoli di che cosa beh delle nostre passioni che a volte si intrufolano nella nostra psiche nella nostra nel nostro spirito nella nostra condizione umana senza neanche che ce ne accorgiamo per poi il passaggio successivo lo vedremo fare un atto di umiltà e cambiare e poi godere di una felicità che è assolutamente alternativa non è la pace di questo mondo perché questo mondo questa pace non la può dare volgere dal latino volvere che vuol dire perdersi vedete che c'è un latinismo e accontroccamento sì come io dissi fui mandato adesso per lui campare e non gli era altra via che questa per la quale io mi son messo così come ho detto fui mandato a lui per salvarlo campare e non c'era altra via se non questa attraverso la quale io mi son messo di nuovo l'allegoria ragione grazia eccetera virgilio beatrice eccetera mostrata ho lui tutta la genteria e ora intendo mostrare quegli spiriti che purgan sè sotto la tua valia gli ho mostrato tutta la gente cattiva che ha peccato e non si è convertita reus latino e ora intendo presentargli tutti questi spiriti che si purificano sotto la tua valia latino da baiulare portare guidare sotto la tua guida com'io lo tratto sarei a lungo a dirti dell'alto scende virtù che mi aiuta con tu cerro a vederti e udirti tutto quello che abbiamo visto nell'inferno sarebbe lungo presentartelo dall'alto scende una forza questa virtù diventa una forza che mi aiuta a condurlo e anche a vedere te e a sentire te ora ti piace gradire la sua venuta eccolo qui libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta ora proprio per tutte queste ragioni accoglilo sta cercando la libertà la vera libertà dell'uomo che è tanto cara è così importante tu lo sai perché hai rifiutato la vita in nome della libertà tu sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la vesta calgaran di sarà si chiara lo ripete tu il sai dove l'è mortifese che sono finute come schissà eccolo qui come sa chi per lei vita rifiuta lo ripete tu il sai no che non ti fu per lei amara inutica la morte al punto che fosti disposto ad accettare la morte nella tua utica ove lasciasti la vesta è una metafora c'è anche una lunga perifrasi quel vestito il tuo corpo che al giorno della surrezione il gran D risplenderà più splendente di altri all'inizio c'è un iperbato che la morte inutica non fu a te amara per lei poi anche qui sto vedendo che c'è non ti fu amara potrebbe essere una litote cioè la negazione di quello che si vuole affermare non fu amara quindi non amara fu dolce per te la morte e poi era sicura Catone non son gli editti eterni per noi guasti che questi vive e Minos me non lega gli editti del cielo non sono stati toccati sono come tu li conosci e per una semplice ragione che io non sono sotto il regno di Minos effettivamente Virgilio si trovava nel limbo e questi vive e Dante non è ancora morto ma son del cerchio ove son gli occhi casti di marzia tua che in vista ancora ti priega o santo petto che per tua la tegni per lo suo amore dunque a noi ti piega diventa dolce questo passo perché si passa ad una preghiera c'è il ricordo di un amore un amore terreno e in tutta onestà sono un po' diciamo sorpreso poi la vedremo la risposta che Catone dà non a Dante a Virgilio ma forse questa risposta è tale per altre ragioni vediamo un po' io mi trovo in quel cerchio dove c'è tua marzia la donna che tu hai amato gli occhi casti anche qui potremmo vedere un'ipallage una sineddoche cioè non sono gli occhi casti evidentemente ma è la persona che è casta che è pura che è onesta quindi una parte per il tutto e poi anche questa predicazione di casti non è degli occhi ma di di tutta la persona ma adesso si può vedere se si vuole mettere una di pallage fermiamoci puramente con la sineddo che va bene vedete che qui il discorso continua termina con tua di marzia tua quindi abbiamo anche una jamberman dove quindi si trova siamo nel limbo la tua marzia che ti prega ancora si vede chiaramente che è ancora legata a te prova per te un grande affetto quello stesso affetto che la legava a te quando eravate sulla terra o santo petto di nuovo una sineddo che non è il petto che è santo è tutta la persona quindi una parte per il tutto e ti prega che tu la possa tenere ancora per tua che la ricordi per lo suo amore adunque a noi ti preghi in nome di quell'amore quell'amore sano casto onesto che vi è unito adunque a noi ti piega piegati a noi piegati alle nostre preghiere e quali sono le preghiere l'esplicativa è questa lasciane andar per i tuoi sette regni grazie riporterò di te a lei sedessere mentovato la giude egni lasciaci passare attraverso i tuoi sette regni sappiamo che il purgatorio si divide in sette cornici e riporterò grazie attenzione che qui non l'ho scritta ma c'è di nuovo un'anastrofe riporterò grazie di te a lei ringrazierò riporterò grazie potrebbe essere rivista nella formula latina grazie agere no ringrazierò oppure qui potrebbe essere porterò i tuoi saluti a lei in ogni modo grazie riporterò grazie di te a lei porterò la tua parola porterò il tuo cuore i tuoi sentimenti a lei se degni se sei contento di essere ricordato laggiù perché laggiù è il limbo tu ti trovi invece in una conduzione differente questo mentovare deriva da mentem avere mentem avere avere ricordo avere pensiero e anche qui un iperbato se degni di essere mentovato laggiù e così a me non piace la risposta che Dante mette in bocca a Catone che è categorica Marzia piacque tanto agli occhi miei mentre chi fu di là dissegli allora che quante grazie volse da me fei allora Marzia tanto fu legata a me piacque tanto agli occhi miei anche qui si potrebbe vedere una sineddoche non è che piace esclusivamente agli occhi gli occhi sono intesi una parte per il tutto quindi io amai questa donna mentre io fui di là anche sembra che potrebbe essere questa l'interpretazione prima della risurrezione di Cristo laddove i giusti attendevano la ricompensa e quindi qui abbiamo un'eccezione un'eccezione clamorosa perché un pagano un pagano può entrare nel regno che non era soltanto un uomo diciamo vetero testamentario ma è addirittura un pagano un suicida eppure a quanto pare è come se avesse avuto il battesimo della libertà voi sapete che ci sono tanti battesimi il battesimo di sangue il battesimo di desiderio è come se Catone con questo atto estremo in nome della libertà avesse ricevuto un battesimo il battesimo che determinò un'azione che allo stesso tempo fece realizzò questa metamorfosi questa metamorfosi in lui in ogni modo questi non sono problemi perché voi capite che ci sono tutte le licenze poetiche qui ci può essere tutte le possono essere prodotte tutte le fantasie possibili non abbiamo bisogno di dare una giustificazione filosofico teologica in ogni modo fino a quando io sono stato là di là cioè anch'io mi trovavo nel limbo io fui legato profondamente a lei ma potrebbe anche essere mentre chi fui di là mentre io vissi nella vita terrena che e di nuovo un iperbato fei con una sincope feici quante grazie volse da me tutto quello che lei volle da me ma ora le cose sono cambiate or che di là da mal fiume di mora più muover non mi può per quella legge che fatta fu quando me nusci fora ora che essa vive al di là del fiume male anche qui potrebbe essere sì infatti lo scritto mi pallage il fiume cattivo il fiume non è cattivo ma indica un termine un confine insormontabile e l'accheronte quindi ora non mi può più toccare moveo latino no? non mi può muovere non può toccare più i miei sentimenti proprio per quella legge che fu definitiva quando io ne ebbi la grazia la fortuna il premio di uscirne fuori e stiamo parlando del credo dove Cristo dopo la morte arriva e detto anche in altri passi della divina commedia arriva nell'inferno e libera gli animi dei buoni in modo particolare gli animi le anime delle di tutti coloro che sono ricordati nell'antico testamento fora è una uscita latina deriva da foris latino ma se donna del cielo è un'altra la ragione per cui io vi dico di passare e vi do il permesso è la grazia divina perché già abbiamo detto più di una volta che Beatrice è l'allegoria della grazia quindi se è la volontà del cielo che ha permesso anzi voluto questo viaggio allora siamo su un altro piano e il permesso c'è ma se donna del cielo ti muove e regge questo muove e regge lo vorrei quasi vedere un climax questo da moveo e da rego latino questa forza che non soltanto muove ma sostiene come tu dici una sincope come tu dici non c'è mestier lusing basta si ben che per lei mi ricchegge non c'è mestier lusing le lusinghe sono intese in senso originario come delle vere proprie bugie lusinghe è una bugia la lusinga è l'opera dell'adulatore no? quindi di abbiamo detto una sincope mestier mestier deriva da ministerium che in latino vuol dire anche bisogno quindi non c'è necessità di dire bugie di lusingarmi basta che tu chiedi il passaggio in nome di quella donna in nome cioè della grazia divina sostanzialmente va dunque e fa che tu che tu costui ricinghe d'un giunco schietto e che rilavi il viso si cogne sudiciume sucidume quindi stinche notate anche queste libertà poetiche per poter far rima ricinghe stinghe 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 vuol dire stingere no? pulire allora vai dunque e fa che fa cut che ha forma latina fa in modo che con un'introduzione di un'esplicativa fa in modo che costui ai suoi fianchi leghi un giunco schietto giunco deriva da iuncum iungere latino quindi si congiunga questo giunco vediamo che cos'è questo giunco io ho scritto allegorie no? e che a questo punto si lavi il viso da tutto quel sudiciume che ha accumulato passando attraverso l'inferno è il residuo dei peccati residuo visibile cos'è questo giunco schietto è l'umilità è il simbolo chiameremmo il giunco dell'umiltà all'interno di questo costrutto allegorico è l'allegoria dell'umiltà se non c'è umiltà non ci si può pentire non ci si può purificare l'uomo non può assolutamente cambiare il giunco il cordone dei frati che ha quel significato lì il cordone dei frati di coloro che hanno fatto voto i tre voti povertà castità e obbedienza si regge sulla umiltà quindi l'umiltà è la negazione di sé per accogliere gli altri in questo preciso contesto per accogliere Dio la volontà di Dio ma in questo preciso contesto la grazia divina purificatrice che non si converria l'occhio sorpriso da alcuna nebbia andare dinnanzi al primo ministro che di quei di paradiso questo converria da convenire anche questo occhio sorpriso super preensus non sarebbe opportuno non sarebbe giusto presentarsi con queste scorie infernali e neppure l'occhio potrebbe essere preso sorpreso da queste scorie dinnanzi al primo ministro che di quelli del paradiso il primo ministro è l'angelo adesso qui non si sa bene se si riferisce all'angelo nocchiero oppure l'angelo che sta riguardo alla porta del purgatorio ma poco importa il concetto è quello questi sono qui squiglie sono solo curiosità che non questa isoletta intorno adimo adimo la giuco là dove la batte l'onda porta di giunchi soffra il molle limo e Catone spiega anche dove trovarlo questo giunco questa isoletta intorno sempre più sotto guardate che imo adimo imus la contrazione di infimus del superlativo che è un superlativo irregolare oltretutto che ha come comparativo inferior e non ha l'aggettivo al positivo ma deriva da una preposizione impropria infra inferior infimus anche noi in italiano abbiamo inferiore e infimo non c'è l'aggettivo di grado positivo qui la inf viene sincopata e rimane soltanto adimo adimo quindi in questa isoletta intorno nel punto più basso laggiù dove la batte l'onda dove l'onda la batte qui è un'altra nastrofe porta questi giunchi sopra un limo sopra una un terreno cedevole molle da movili spieghevole flessibile null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi puote avere vita però che le percosse non seconda nessun'altra pianta che facesse fronda vabbè che produce delle foglie o a un certo punto diventasse consistente dura può aver vita la perché perché non seconda le percosse si spezzerebbe le virtù spesso sono rappresentate da delle piante ma la virtù dell'umiltà è rappresentata da un giunco il giunco si piega umilmente viene voglia di ricordare la ginestra la ginestra di Leopardi che di fronte alla lava di fronte allo sterminator Vesuvio piega il capo umilmente e la stessa cosa nella stessa prospettiva si deve vedere questo giunco che non peraltro è il simbolo dell'umiltà poscia non sia di qua vostra reddita lo sol vi mostrerà che sorge o mai prendere il monte a più lieve salita ma poi poscia da poste reddita il vostro ritorno da reddito sul latino non sia di qua è un anastrofe di nuovo ogni tanto mi dimentico di metterli ma penso che ormai siano chiari il vostro ritorno non deve essere di qua vi ricordate che si era girato poi dalla parte sinistra se non sbaglio dovete fare un'altra strada il sole vi mostrerà questa strada il sole che ormai sorge ricordatevi l'allegoria del sole che era già presente nel primo canto della prima cantica il sole è l'allegoria della grazia divina ma in modo particolare di dio il sole vi mostrerà la giusta strada e in questo modo potrete affrontare la salita del monte per una via più leggera levis più leggera le fatiche si prendono no gradatamente gradualmente non possono essere prese di petto quindi questa salita al monte sarà già faticosa prenderete la strada meno dritta così sparì e io su mi levai senza parlare e tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui trizzai c'è una serie di coordinate sparì levai mi ritrassi drizzai catone svanisce il suo ruolo è finito io mi alzai perché era inginocchiato non parlai in silenzio e mi accostai sempre quel rapporto quadre quasi paterno se non materno che intercorre tra virgilio e dante al duca mio duca ducus ducis latino per antonomasia il virgilio è la guida e come al solito come fa il bambino in cerchio di una guida rivolse i miei occhi verso di lui e cominciò figliuola segui i miei passi volgianci indietro che di qua dichina questa pianura a suoi termini bassi infatti abbiamo detto bisognava scendere per arrivare al limo e cogliere il giunco quindi figliuol è un troncamento vedete figliuol anche qui potrebbe essere per antonomasia virgilio è il padre putativo in una prospettiva etica e dante è il figlio figliuolo oltretutto con questo olus che è il tipico diminutivo latino figliuolo seguimi torniamo indietro perché di qua questa pianura si scende nei suoi più bassi contorni l'alba vinceva l'ora matutina che fuggia innanzi sì che di lontano conobbe il tremorale della marina l'alba vinceva l'ora matutina è una perifrasi stavano già apparendo i raggi del sole all'orizzonte l'alba ormai era vicina era quasi presente le ultime ore della notte venivano meno e fuggia abbiamo una caduta della naviale e dunque l'alba vinceva l'ora matutina che fuggia innanzi l'ora matutina che fuggiva abbiamo anche una 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 metafora quasi che l'ora del mattino le ultime ore della notte fuggissero per dare spazio alla luce cosicché conobbi da lontano il tremolare dell'acqua del mare noi andavamo per lo solingo piano comom che torna alla perduta strada che infino ad essa li pa ira in vano qui c'è una bella similitudine noi camminavamo così uno dietro l'altro per questo piano solitario come uomo om tipicamente latino con similitudine come un uomo che torna dopo aver perduto la strada maestra che come consecutiva pare di andare in vano fino ad essa quando uno perde una strada la strada giusta deve tornare indietro per recuperare la strada esatta la strada che si doveva percorrere tutto quel percorso porta quasi a noia no? fino a che non si arriva alla strada che doveva essere imboccata subito quando noi fumo là ove la rugiada pugna col sole per essere in parte dove ad orezza poco si dirada ambo le mani in sull'erbetta sparte su ovviamente mio maestro pose quando noi arrivammo là dove la rugiada pugna sembra quasi tipicamente latino combatte col sole per essere per trovarsi in parte dove o qui c'è un problema nei vari nelle varie versioni in alcune c'è ad orezza staccato in altre c'è ad orezza attaccato ad orezza dunque diciamo subito che orezza deriva da aura latino poi da aura il venticello c'è un diminutivo auricium e poi venticello ora o con orezza si intende all'ombra dove all'ombra poco si dirada ha difficoltà ad evaporare parliamo della rugiada oppure dove ad orezza è una forma impersonale dove ventila un venticello quindi il dove è una locativa dove poco si dirada quindi quando noi arriviamo dove la rugiada combatte col sole per trovarsi in quella parte dove ha difficoltà a evaporare e poi c'è questa perché ha difficoltà ad evaporare perché si trova all'ombra ad orezza all'ombra oppure perché soffia un venticello una brezza e allora in questo caso è un verbo impersonale cosa fa Virgilio ambo le mani in sull'erbetta sparte suovemente il mio maestro pose il mio maestro quindi anche qui c'è un infermato il mio maestro pose suovemente tutte e due le mani aperte sparte sparte da sparse è un participio passato di spargo spargis latino aperte sull'erba on dio perciò io che fui accorto di sua arte che mi resi conto della sua maniera di agire guardate che arsartis vuol dire anche maniera di agire infatti poi della maniera di agire nascono poi le varie arti porsi per lui le guance lacrimose porsi verso di lui le guance lacrimose che oltre a essere coperte da caligine c'era una caligine sporca per le lacrime che spesso Dante aveva versato vedendo i dolori e l'inferno lacrimose con la g è uno stile aulico si predilige la velare g capita tante volte invece di lacrimose perché anche in latino la lacrima è lacrima non lagrima i mi fece tutto di scoverto quel colore che l'inferno mi nascose e lì perciò mi fece fece me di scoverto scoverto è un complemento predicativo dell'oggetto mio è un complemento oggetto fece me tutto di scoverto mi ripulì di quel colore scuro che l'inferno mi nascose che l'inferno mi aveva posto sulle guance e che nascondeva il colore naturale delle mie guance venimmo poi in sullito diserto che mai non vide navicar sue acque omo che di tornarsi a poscia poscia esperto anche qui si potrebbe vedere una perifrasi però vediamola così venimo poi sul lito litus lito l'islatino venimo poi sulla riva deserta non c'era nessuno che non vide mai omo omo l'islatino navigare sulle sue acque che poi esperire esperio che poi riuscisse che poi riuscisse a ritornare sui suoi passi vuol dire cioè che in questo lito si raccoglievano poi quelle anime che avrebbero dovuto essere traghettate sulla riva del purgatorio uomini vivi mai là si erano presentati tante fa l'eccezione ma voi sapete che dante è l'legoria di tutti gli uomini che lo seguono evidentemente non in corpo perché se non sarebbe una contraddizione ma lo seguono in spirito col cuore qui vi micinse sì come altrui piacque questo come altrui piacque viene voglia ci viene voglia di ricordare altri passi che vengono che terminano con queste parole qui qui il significato però qui micinse di questo giunco come aveva detto come piacque appunto a Catone come aveva deciso aveva consigliato Catone oh maraviglia ma non basta ancora dopo tutto quello che Dante lungo questo primo canto ha potuto vedere si aggiunge l'ultima meraviglia anche questa è l'espressione di un'allegoria che qual elli scelse l'umile pianta cotal si rinacque subitamente la onda che quale pianta definita già umile elli cioè virgilio scelse la stessa pianta cotale qual cotale si rinacque dopo che era stata decisa era stata decisa una parte subito questa pianta ritorna ad essere quella di prima notate che quale si scelse lumina pianta era comparativa cotale si rinacque è la principale sempre per quella diffressione che ho fatto tante volte viene riprodotto la costruzione latina dove il comparativo la subordinata comparativa sta prima della proposizione principale quindi cotale rinacque quella pianta quale elli virgilio scelse di di far cosa di avellere di avellere cioè di strappare subitamente la onde la velse laddove virgilio l'aveva rotta l'aveva strappata per consegnarla a me affinché me ne cingessi i fianchi